Alex, abbiamo ricevuto il primo ingaggio. Un pezzo grosso dei 510 ha nascosto un pacco quando gli sbirri hanno iniziato a fare sul serio. Vai alle coordinate. Alex, è ora di una missione in raid. Devi portare un carico al punto concordato. Tutto fuori strada e il tempo scarseggia. Cosa trasporto? A occhio e croce, qualcosa che non doveva essere trovato. Devi tenere un buon passo per riuscire a consegnare Alex. Ne abbiamo bisogno. Grazie. Grazie. Come va l'auto? Direi che se la cava piuttosto bene. Il terreno è molto sconnesso. Fuori strada e niente sbirri. Continua così, Alex. Sì, ci provo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non sei una pilota? Come ti è venuto in mente il contrabbando a quale strada? Non è tanto difficile con i dati necessari. Sai cos'è l'analisi della regressione? Non ne ho idea. Beh, io sì invece. Perché sono intelligente, Alex. Molto intelligente. Non è tanto difficile. Ok. Manca poco, Alex. Forza, sbrigati. Non è tanto difficile. Ok, sto consegnando il carico. Non immagini che auto hai il corriere. Hai fatto presto e guadagnato bene con il lavoro. Il piano funziona, Alex. Non è tanto difficile. Non è tanto difficile. C'è una consegna perfetta per un'auto da raid. Te la senti? mandami le coordinate. Via contre complexity. yeah . diavolo Rox, zbirri! il pacco è andato. Quosa?! Sberri! Tanti sberri! Battene di lì! Bel piano! Centrale, lo seguiamo fuori strada. 10-4 per noi. Attenti, lo speroniamo. Seguiamo il bersaglio a sud-est. Ehi, come procede? A meraviglia! Sapevo che gli sberri avevano il controllo dello Stato, ma con questi tempi di reazione sarà molto dura. Ha tagliato verso est. Roger. Ui, supporto aereo. Bersaglio in fuga, ma non lo perdiamo. 10-4 centrale. Centrale, abbiamo preparato i posti di blocco. Roger, a tutte le unità in inseguimento. Posti di blocco in asso. Il solo bersaglio è di nuovo in città. Messaggio 10-4. Il bersaglio non è più in vista. Roger. Tutte le unità all'est. Progete. Roger. Occhio. Intercettiamo. Questo non rallenta, codice 3, proviamo a fermarlo. Centrale, l'inseguimento procede bene. 10-4 centrale. Sono dietro al veicolo Versailles. Centrale, l'inseguimento procede bene. Centrale, siamo a punto di carburante. Dovremmo rientrare presto. 10-4 centrale. 10-4 per voi. Pronto a speronarlo. Unità 5 in intercettazione. Occhio. Pronto a speronare. Ma non si è attacchi. Il terzo è dietro di me. Adesso basta. Il tiziatus si avvicina. Lo vengo. Vediamo cosa fai ora. Adesso lo blozziamo Centrale ci farebbe comodo un altro elicottero Messaggio 10-4 Versaglio di nuovo in vista 10-4 per noi Centrale è andato fuori strada, rifecio, lo inseguiamo fuori strada Non riesco a vederlo Ricevuto, a tutte le unità state allerta e controllate gli schermi Qui in supporto aereo Versaglio in fuga, ma non lo perdiamo Roger Centrale ci ha quasi seminati Porto aereo, ci bisogno di voi altrove Roger, Centrale Vero ce la facciate da soli Centrale fare ci abbia seminato Roxanne, gli ho seminati Bene, ma questa non ci voleva D'ora in poi dovremmo fare più attenzione Già, cerca solo di non spedirmi in un'altra imboscata, ok? Parlo con il V4 Sono quello di Las Vegas Alita mi ha dato il tuo numero Dimmi pure Ho chiesto in giro di Daria Brutte notizie Pare che abbia preso Shiv per il verso sbagliato durante una corsa di qualche mese fa Le ha sparato È morta Grazie Roxanne Hai sentito? Certo Mi dispiace Io... Ho da fare Roxanne, merda Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Nuova richiesta di contrabbando Ho comprato mezzi raid per un'intera crew Aspetta, stai bene? Mi dispiace per tua sorella, Rox Possiamo anche rallentare un po' Vuoi Shiv, giusto? È grazie a queste missioni se arriverai a lui Raggiungi le coordinate sul GPS Ok, 510 Stanotte Faremo un po' di soldi Ci vediamo al punto di consegna Torz, Alex Noia我覺得 Noia 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 Ma la Noia Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Emigini Nuia Il gruppo tiene un buon passo, Alex. Alex, continuo così e consegnerete il tempo. Rox, vuoi che parliamo di tua sorella? Non c'è niente da dire, era sparita. E sapevo che qualcosa non andava, ma scoprire che è morta. È tutto così strano. Non mi sembra reale. Lo so. Non mi sembra reale. Cosa farai quando lo trovi? Pagherà. Per mio fratello e tua sorella. Ed è il modo migliore. Parti notare, salire di grado finché non arrivi a lui. Sì. Allora farò l'impossibile per aiutarti. Sei quasi al futto d'incontro. Il corriere è uno strano. Credo che ti piacerà. Ti stai avvicinando, Alex. Tieni gli occhi aperti. Ti stai avvicinando, Alex. Beh, ma tu guarda. Ok, sei tra i capi. Un'officina elaborazioni per auto da pista di Los Angeles ci ha contattato. Le auto da pista sono il meglio per velocità e precisione. Pensate per il circuito e piloti dai nervi d'acciaio. Le auto da pista sono potenti e velocissime, ma molto fragili. Grazie a tutti.